Mi ricordo che quando ero bambino la cosa che pensavo e che per la quale vivevo era una medaglia d'oro all'Olimpiadi. C'è tutt'ora, pur avendola per fortuna mia già raggiunta, sto comunque sognando di andare ancora meglio e di provare a vincerne altre. Io ho sempre avuto questo aspetto di guardare più al futuro, più all'avvenire, ma da quando sono piccolo, nel senso che io mi pongo subito un nuovo obiettivo. Tra dieci anni non mi dispiacerebbe, anzi mi piacerebbe molto avere una mia famiglia, questo è sicuramente l'unica cosa certa, o meglio, l'unico desiderio forte che ho nel futuro per quanto riguarda la mia vita personale. Poi non si sa mai cosa ti riserva la vita, però questa è sicuramente una cosa che mi piacerebbe. Il talento lo vedo come una fortuna e una grossa responsabilità. Per rispettare il talento devi fare tutto quello che è in tuo potere per farlo fruttare al meglio, in qualsiasi ambito e in qualsiasi caso. Naturalmente è una grande linea guida di correttezza, quindi io penso che il fine non giustifichi i mezzi, ma al contrario, delle volte il percorso e i mezzi sono molto più importanti dello scopo finale.